Ecco, mi sono andato per entrare in sala operatoria e operare in questa singola. È molto importante il lavaggio delle mani perché bisogna assolutamente evitare contaminazioni che sono sempre causa di infezioni, sempre in a guada per questo tipo di interventi in sala operatoria. Ho spiegato alla paziente che questo tipo di intervento sarà sicuramente di successo, che utilizzeremo le ultime tecniche che sono state inventate per riparare il penne della cuffia dei rotatori. Purtroppo, l'ho spiegato anche, che nonostante l'intervento sia eseguito al meglio, purtroppo c'è anche la possibilità dell'idecidiva, cioè che questo tendine si distacchi. Perché questo? Perché questi tendini sono tendini che comunque sono molto rovinati, si staccano soprattutto per questo motivo. Se sono rovinati significa che non passa il sangue all'interno di questi tendini e chiaramente non si forma quella cicatrice che si forma per riattaccare il tendine sull'osso. Proprio quando uno ha una ferita, esce fuori il sangue, si forma prima la famosa crosticina, poi va via la crosticina ed esce sulla cicatrice perché si ripara appunto la pelle. Il concetto è lo stesso.